diciamo sempre che non ci riusciamo mai prima scena che già mi ha fatto capovolgere il naso non storcere il naso, proprio capovolgere cioè la prima scena avevo già le narici qua e la punta del naso l'avevo qua praticamente loro stanno in macchina questi due stronzi che parlano discorsi banali cioè il problema è che uno potrà sempre dare la colpa al romanzo ma ho letto che lui ha liberamente cambiato qua e là le cose del romanzo va detto che a me King non piace, come autore non mi piace, la sua chiacchiera non mi piace per nulla è molto stereotipato e ha delle buone idee ma non far mai parlare i personaggi perché probabilmente non vive sul pianeta Terra riesce ad essere completamente estraneo alla realtà quando fa parlare i personaggi anche nei libri oppure è fin troppo realista e mette delle banalità in bocca ai personaggi che nemmeno mio nipote di otto anni scriverebbe una storia così banale e infatti la banalità è la prima secchiata di merda che ci arriva in faccia perché questi due in quel minuto che stanno in macchina riescono a dirsi tante di quelle banalità che a me già mi viene le prime difficoltà respiratorie stronzate veramente viste e riviste e ascoltate e riascoltate in cinquantamila film e al cinquantamila e unesimo film ancora sempre con le stesse stronzate che sorvoliamo perché che i dialoghi non fossero scritti da quarantino si sapeva ok però succede che loro stanno camminando per andare in questa casa nel lago perché negli Stati Uniti tutti hanno una seconda casa al lago tutti tutti film horror c'è sempre qualcuno che ha la casa al lago iniziando da Jordan Peele con us per arrivare a sta stronzata di Mike Flanagan ok si va a questa casa al lago tutti in America hanno una casa al lago ok mentre camminano c'è un cane in mezzo alla strada un cane in mezzo alla strada che si sta mangiando una carcassa di animale investito la cosa dice la nostra grande attrice la la Scarlett Johansson versione casa casa di cura o casa di riposo ecco la Scarlett Johansson over 60 dice oh mi cane a fame nessuno ecco che qui mentre fino a un secondo prima i discorsi erano di quanto più banale e stereotipato possibile quando invece dovrebbe dire qualcosa di intelligente di stravagante o di normale ecco quando invece dovrebbe dire qualcosa di normale perché insomma stai camminando con la macchina ti trovi un cagnaccio schifoso sporco e puzzolente tutto il mondo non direbbe sicuramente uh ha fame no nessuna persona direbbe così nessuna persona direbbe così mi è bastata quella scena per inquadrare subito la signorina Carla Cugino come una cagna assoluta cagna lei e cagna cagno chi ha messo in bocca a lei un dialogo simile perché se io vedo un cane così schifoso in mezzo alla strada io accelero e lo butto sotto oppure dico uh che schifo un cane rognoso che si sta mangiando un animale schiacciato sulla strada tutto direi ma sicuramente non mi metto a dire uh ha fame ma ha fame cosa? è un cane schifoso che sta in mezzo alla giungla e lì già ho capito mi sono messo le mani nei capelli e ho detto porca puttana qui forse siamo di fronte di fronte al più schifoso film degli ultimi 25 anni forse abbiamo trovato il degno il degno erede a Il Cartaio o a Bob veramente e infatti la scena successiva non mi tradisce affatto perché Carla Cugino ruba dal frigorifero della bresaola giapponese super lussuriosa da 200 dollari a etto parole del marito eh parole del marito e lei che fa? prende due di queste quattro bistecche e due le mette sul piatto crude crude le bistecche crude cioè ci rendiamo conto crude le bistecche crude non sapendo che un cane per quanto sia un cane selvaggio e tutto cuocigliela la carne cazzo non gliela dare cruda io non sono un grande esperto di cani ma carne cruda non gliela si dovrebbe dare perché possono fare i vermi eh cuocila fargli almeno una girata e una passata falla un po' al sangue ma cuocila un attimino no gliela da cruda manco fosse un leopardo un leone ecco agli animali a quegli animali devi dare la carne cruda ma un cane perché era un cane non era un lupo mannato era un cane non gli puoi dare due bistecche di carne cruda tra l'altro carne così lussuriosa e poi ma fosse solo quella la stronzata lei si mette sul ciglio delle scale di questo lago e inizia a chiamare il cane perché ora le distanze non mi sono chiare però loro dopo averlo incontrato la prima volta questo cagnaccio schifoso e puzzolente hanno continuato a camminare quindi saranno passati due tre chilometri ora le probabilità che una persona si metta sul ciglio della propria scalinata scalinata queste scale che sono così importanti di questi tempi si mette lì con questo piatto di carne in mano e inizia a chiamare il cane non mi ricordo come lo chiama ma voglio sorvolare e incredibilmente il cane arriva incredibilmente il cane arriva magari era tre chilometri di distanza ma grazie al suo fatto incredibile avrà avrà annusato la carne la prelibata carne e incredibilmente il cane arriva e allora uno lì in situazioni normali avrei già spento il film però ripeto siccome stavo giocando a Fishing Planet mi sono detto ma che ce ne frega ma lo guarderemo fino all'ultimo ci faremo del male fino all'ultimo ma le premesse erano queste queste sono le prime due scene del film una stronzata dopo l'altra e quindi l'ho messa poi dopo sulla commedia Dark perché di questo alla fine si tratta devo dire che io non conoscevo nulla della trama quindi mi sono lasciato sorprendere chissà di che cazzo si tratta ok e allora iniziano con questi dialoghi assolutamente privi di stimoli cioè non c'è una frase pronunciata da questi due che sia che sia importante anzi ricordo addirittura un'altra cosa che mi fa innervosire sempre di questi cazzo di film scritti col buco del culo all'improvviso a lui squilla il telefono scusami tesoro è il lavoro e lo senti che lui parla di alto business wall street vendi le azioni della nesquik perché sono in ribasso no ma noi dobbiamo convincere sembra sembra beta call come cazzo si chiama quell'altra minchiata insomma sembra ecco i discorsi che fanno in beta call ora non mi viene in mente il nome e io mi sono detto ma porca puttana ma cambiatelo cioè ok deve squillare il telefono fa che sia il dottore che ti chiama perché ti sta dando i risultati delle analisi ecco come in Kaminsky vengono continuamente chiamati dai loro proctologhi urologhi abbiamo trovato ti hanno trovato un cancro nei coglioni ti hanno trovato un cancro al cervello le tue analisi sono positive non hai la sifilide hai solo un po' di AIDS cazzo finalmente una boccata d'aria una boccata di ossigeno nel senso di dialoghi realistici e soprattutto originali non è che Kaminsky si mette là scusami mi stanno chiamando da Wall Street affari cazzo sei al lago è il weekend non è che ti devi chiamare uno e devi andare a telefono e dovete parlare di affari mentre sei in vacanza ce l'avrete un cazzo di gruppo whatsapp ti mandano un messaggio e rispondi di notte dopo che hai finito di scoparti tua moglie invece no ci mettono pure sta scena come se non bastasse la scena del cane e i dialoghi insopportabili in quella macchina un film tra l'altro senza musica senza musica non c'è musica hanno dovuto risparmiare probabilmente su una colonna sonora decente e praticamente si succede che lui per motivi di affari appunto in sottofondo si sente mentre lui fa la sua grande conversazione d'affari il grande uomo d'affari capito e si arriva poi alla fine in questa casa e passano dei minuti interminabili in cui gli mette le manette poi forse non gliele mette e poi gli si struscia sopra e però poi si rialza e perché deve prendere il viagra poi però forse non lo vuole riprendere poi si ributta sul letto con la moglie poi si rialza prende il viagra e poi si ributta sul letto della moglie aspettando che il viagra faccia effetto la moglie prima dice di sì poi però ci ripensa poi dice di no poi capisce che questo giochetto non gli piace lui nel frattempo ha preso il viagra quindi gli sarà venuto duro e la morde a lei il morso non piace e lo prende a calci o lo morde a sua volta però è ammanettata e quindi non può farci nulla e dobbiamo stare qui a capire ad ascoltare roba roba cioè sembra the wedding story però scritto con i peli attorno alla circonferenza del buco del culo prendete wedding story prendete il regista Baumbach chiudetelo nello scapuzzino prendete Mike Flanagan e fategli scrivere i dialoghi di the wedding story esce il gioco di Gerard il cazzo di Gerard perché il titolo del film doveva chiamarsi il cazzo di Gerard tra l'altro è incredibile vista la trama la non trama come in realtà il cazzo di Gerard che è il fulcro del film in realtà sia un titolo più geniale del gioco di Gerard cioè il cazzo di Gerard era giusto come nome e noi non sapevamo nulla di questa cazzo di trama anzi addirittura quando ci dicevano il gioco di Gerard 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 pensavamo si riferisse a The Witcher dove il protagonista è Gerard tant'è vero che io ho visto The Witcher proprio perché me l'aveva consigliato di barraggiullare e invece lui intendeva purtroppo perché The Witcher è bellissimo e infatti infatti lui non lo ha visto ma si ha visto sta monnezza e quindi sto lì a vedere sta stronzata dove poi lui a lui gli viene l'infarto ok quindi resta stecchito e lei sta lì e praticamente capisce che la situazione non si mette per bene perché è legata ora siamo un po' nella la banalità nelle stupidità dei film di Hollywood tanti film in cui appunto quando ti succede questa cosa al 100% la situazione è tale che non verrà mai nessuno entro i prossimi due o tre giorni e il problema è che il film è talmente stupido e il regista è talmente insicuro di sé che per per farti capire quello che tu hai capito prima ancora di iniziare a guardarlo sto merda di film lui ti spiega tutto e allora fa parlare il protagonista e gli fa dire il giardiniere non verrà perché gli ho fatto radere il giardino ieri la bidella non verrà perché gli ho fatto strurare i cessi l'altro ieri il vicino di casa non verrà perché l'ho mandato al polo nord una settimana fa il telefono non squillerà perché i nostri appuntamenti lavorativi lui è un grande uomo di business infatti non gli arriva un messaggio non gli arriva non hanno una sveglia non arriva non lo so la notifica di candy crash chiunque usi uno smartphone questi cosi se non gli spegni bussano in continuazione invece questo questo smartphone miracoloso resterà muto per tutta la giornata anche se poi ti spiegano che lui non l'aveva caricato perché appunto perché non la carica quindi la batteria è scarica ma addirittura gli smartphone attuali suonano se la batteria inizia per finire ti avvisano oh 15% 10% 5% se non gli spegni col pulsante sti cosi non ti lasciano in pace un secondo e invece lo smartphone del nostro uomo di business sta lì spento e lui non lo carica perché sarà un grande uomo di business però non gli si rizza il cazzo e non sa usare uno smartphone quindi io inizio già a avere dei dubbi sulla credibilità di tutta la storia lei rimane lì e praticamente capisce che è in una bella situazione di merda perché appunto in questo universo irrealistico che ha creato ripeto diciamo Stephen King ma io Stephen King non l'ho letto il libro quindi diamo la colpa a Mike Flanagan il regista nello scrivere questa porcata fa in modo che in quella casa in un raggio di 5 km non ci sarà anima viva per i prossimi 2-3 giorni tranne colpo di scena Er Cagnaccio Er Cagnaccio questo cane che puzzera talmente tanto che probabilmente annuseresti la sua presenza già un chilometro di distanza questo entra in casa perché i cani randaggi fanno così entrano nelle case giustamente lei furba gli ha offerto la bistecca ora io mi sono chiesto allora il cane gli ha dato gli ha dato 250 grammi di bistecca sopraffina sarà sazio invece questo entra in casa vede la salma del nostro cazzo moscio Gerald e lo sbrana subito lo annusa l'odore del sangue e lo mangia inizia a mangiarlo subito allora mi sembra una reazione un po' spropositata per un cane randaggio che ha appena mangiato 250 etti di carne prelibatissima non ha paura questo cane poi la cosa bella è che lui mangia il marito della nostra protagonista sempre sempre a favore di camera cioè si mette proprio sull'uscio della stanza e non esce non esce si mette lì in modo che in modo che Carla Cugino può guardare guarda mi sto mangiando un po' di braccio un po' di spalla così poi colpo di scena dopo sta stronzata il marito si alza e io lì ho detto oh e allora se questo si alza chi cazzo è quello quello che sta per terra il problema è che tu non hai nemmeno il tempo per un attimo di farti stimolare il cervello è di dire oh colpo di scena questo è morto però adesso si alza però giù c'è un morto vediamo un po' cioè quella volta ogni una volta tanto che questo film cerca di farti riflettere iniziano a spiegarti tutto nel giro di Scindy 10-20 secondi già ti hanno spiegato tutto già ti hanno spiegato che lui è solo una riflessione reflection della mente di lei che quindi se lo sta immaginando lui in realtà è già morto poi arriva anche la reflection di lei stessa e quindi lì è stato un incubo perché non solo me ne siamo dovuti sorbire una di cagna cagna cugino perché c'è il cane rognoso e c'è la cagna che è lei non solo una cagna addirittura due cagne al prezzo di uno due cagne al prezzo di uno e il cazzo di Gerald in piedi tre stronzi che iniziano a parlare no ma parlare parolone spiegano il film spiegano tutto il film e il film sono un'ora e 45 minuti di gente che ti spiega ogni cazzo di scena e a me sembra incredibile che il fruscio lo abbia trovato bello sto film perché su queste cose sugli spiegoni il fruscio è molto severo al fruscio non piace che il film gli venga spiegato suppongo che a lui sia piaciuto perché probabilmente gli piace Carlo Cugino io li alzo le mani perché se un film ti eccita come a me ha eccitato After che non sarà un gran film After rispetto a questo è un film scritto da Polanski va detto però After io vedevo Josephine come si chiamava le Josephine Langford forse si chiamava così ed ero incantato vedevo lei ed ero incantato ok in quel frangente rimase incantato e riuscì a godermi riuscì a godermi anche il film a suo tempo allora magari gli sarà piaciuto per questo ok e praticamente è lì e la parte centrale del film forse è la peggiore perché stanno lì e non fanno altro che spiegarsi il film interamente e a me non me ne frega un cazzo di queste problematiche matrimoniali rapporti di coppia matrimoni in crisi una donna che sposa un uomo più vecchio di lui non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo è un argomento che non mi interessa essendo io un convinto single voglio dire The Wedding Story incredibilmente mi è piaciuto perché porca miseria sono riusciti a farmi piangere quasi per una storia di coppia perché era scritta così bene ed era interpretata in un modo così spettacolare da quei due straattori che sono Scarlett Johansson e lo spelungone Adam Driver che veramente punto e invece praticamente ripeto questo è The Wedding Story però invece di essere stato scritto da Baumbach gliel'hanno fatto scrivere a sto ritardato che si fa chiamare Flanagan ed è veramente un film per ritardati con dei dialoghi da ritardati ci mette quasi un'ora e dieci il film quando finalmente ti fa capire il colpo di scena lei era stuprata quando era B piccola stuprata o abusata perché lo stupro in realtà non c'è lui si fa una sega si struscia ma non la stupra dal padre durante un'eclissi solare perché il regista vuole assolutamente farti capire che si tratta di un'eclissi solare infatti per 5 minuti senti solamente eclissi solare eclissi solare eclissi solare eclissi solare nella radio in tv ai personaggi scrittosi cartelloni pubblicitari dappertutto per 5 minuti eclissi solare perché Flanagan ha paura che che non si capisca il messaggio è come se nel film Erbuco capolavoro è tale qua Erbuco c'è il nero che ha finalmente la panna cotta avanti io l'ho visto in tedesco e lui in tedesco per qualcosa come 5 minuti ma lì io l'ho amato in quella scena per 5 minuti con quell'accento tedesco non in grado di pronunciare correttamente la parola di questo dessert italiano lui per 5 minuti dice di bocciav di stipanacota 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 e va avanti così ed è stupende quasi mi ipnotizzava io dicevo continua continua a dirlo continua a dirlo di bocciav di stipanacota di bocciav di stipanacota purtroppo qui invece è l'eclissi, l'eclissi solare ma anche questo è fatto male abbiamo capito che c'è sta cazzo di eclissi e che succede? il padre abuserà della bambina proprio durante sta cazzo di eclissi e siccome l'eclissi è un po' rossastra e si vedono le luci anche un cieco capirà poi in futuro che il nosferato che appare nel film sembra proprio c'è la faccia dell'eclissi perché la bambina da piccola avendo subito il trauma durante queste eclissi riflette quindi l'immagine dell'eclissi solare la proietta in faccia al nosferato chi è questo nosferato? è il trauma, è il senso di colpa, è la vergogna tutte queste energie negative che prendono forma la nostra attrice cagna nella sua mente diventano forma e quindi ogni tanto farà la sua presenza sicuramente la cosa migliore del film è il nostro nosferato peccato che Flanagan ce lo fa vedere tre volte perché il protagonista di questo film è il cane è il cane un cane di una stupidità che non vi potete immaginare io non sono un grande appassionato di cani nel senso che ho avuto poco a che fare non conosco i comportamenti dei cani ditemi voi che avete esperienza se i comportamenti di questo cane dall'inizio alla fine non sono comportamenti di un cane stupido quindi nemmeno il cane Flanagan è stato capace di rendere credibile ed è tutta una storia di questo cane che sta sempre a mangiare un cane che non si sazia mai non si sazia mai sta sempre a mangiare sempre a mangiare sempre a favore di telecamera porca puttana sempre a favore di telecamera e tu stai lì speri solamente che lei riesca a liberarsi a prendere un fucile a sparare a questo cane di merda che io nella primissima scena avrei buttato sotto con la macchina poi avrei messo marci indietro più o meno 50-60 metri avrei messo la prima avrei spiggiato sull'acceleratore gli sarei passato un'altra volta sopra per essere sicuro di spiaccicarlo sull'asfalto probabilmente l'avesse fatto anche lei in questa merda di film si sarebbe quantomeno liberato per cane ok un cane inutile in tutti i film il cane è inutile e quindi alla fine il colpo di scena di questa merda di film è il fatto che lei ci aveva questi ricordi repressi queste energie repressi vi ricordate lo stupendo film The Tale stessa storia The Tale Laura Dern che scrive una lettera a se stessa o quantomeno lei a 40 anni legge le sue lettere che aveva scritto quando ne aveva 12-13 e lì inizia la storia e anche lì c'è Laura Dern adulta che parla con l'immaginazione con Laura Dern piccolina anche lì stupro vero visto veramente questa stronzata che fanno vedere qua non hanno paura di mostrare lo stupro vero che l'insegnante di Cavalli perpetrà nei confronti della nostra povera giovane protagonista e infatti The Tale porca miseria è un filmone del cazzo ma a livello positivo è un filmone che i popò Oscar misero al terzo posto nel 2018-19 un film stupendo che mi fece tremare anche ore dopo la sua visione e questo qui Sto Flanagan non riesce a fare nulla che invece riescono a fare in detail anche perché da una parte c'hai Laura Dern Golden Globe per The Wedding Story cosa che lo staff aveva anticipato sette mesi prima dicendo Laura Dern vincerà qualche premio per quei cinque minuti di Wedding Story che le fanno fare e qui invece abbiamo Carla Cugino addirittura anche la bambina che interpreta Carla Cugino da giovane è una cagna non sa recitare non sa recitare la mamma il padre di Carla Cugino mi è simpatico sembra quasi aver fatto forse tre ore nella scuola di Cominski almeno almeno lui tre ore tutti gli altri non hanno mai recitato mai recitato il primo e l'unico vero attore è Gerald ma purtroppo muore dopo cinque minuti anche se poi ritorna come immaginazione ma in realtà muore e muore anche come attore il film è questo praticamente il colpo di scena è lei che era stata stuprata era stata costretta per comodità e per vergogna a non confessare mai questo stupro questo ha accumulato in lei questa energia energia negativa che appunto in quella situazione di grande trauma di grande disagio si materializza nella figura di Nosferatu almeno questo è quello che tu pensi quando sei arrivato alla fine del film ok e invece poi che succede incredibilmente lei in un modo ok alla fine è un film si libera tagliandosi un po' la mano cioè i polsi con la scheggia di vetro del bicchiere e si trascina la mano sulle manette e si tira giù la pelle manco fosse manco fosse Arnold Schwarzenegger quando in Terminator 1 cioè è un film che copia male da migliaia di altri film in questo film hanno copiato The Wedding Story hanno copiato Nosferatu hanno copiato The Tale hanno copiato Terminator hanno copiato Cujo infatti Gerard lo dice prende per il culo lei chiamando quel cane Cujo guardatelo Cujo di Stephen King quello è un filmone porca di quella puttana quello è un filmone non sta stronzata detto questo detto questo si libera e il cane questo cane che sembrava uno sporacchio per tutti i film pronto a mangiarsela invece il cane appena le si libera mette il grugno nel corridoio sente che sta per arrivare qualcuno presumiamo Nosferatu e scappa via questa era l'importanza di questo cane non serve a un cazzo per tutto il film non serve a un cazzo per tutto il cazzo di questa merda di film quindi lei sta lì arriva arriva a Nosferatu che tu pensi sia comunque una reflection quindi semplicemente un'opera della sua della sua fantasia del suo il trauma che si ripresenta e lei gli dà l'anello praticamente quindi fanno fanno sto scambio no praticamente è una è uno scambio commerciale praticamente questi due fanno questo baratto Nosferatu va via lei lei dopo tre giorni passati senza dormire senza bere senza mangiare ferita sanguinante debole tutto quello che volete si mette in macchina e cosa fa inizia a guidare a 150 all'ora al buio in mezzo ai boschi momento di riflessione dieci secondi dieci secondi dieci secondi di silenzio per l'intelligenza umana che in questa scena muore muore ok sono passati dieci secondi cioè che cazzo corri a fare perché cazzo corri il cane è un imbecille tuo marito è morto Nosferatu si è venduto con un anello di merda con calma sei stanca mettiti in macchina lo smartphone non funziona non c'è caricabatterie non c'è elettricità non ho manco visto se ci ha provato a caricarlo capace pure che Flanagan mi racconterà e no il caricabatterie non se l'ha portato il grande businessman di Wall Street va in una casa al lago e non si porta un caricabatterie per lo smartphone non c'hanno un laptop non c'hanno nulla per telefonare con calma ti avresti fatto prima una bevutina una doccia quantomeno fanno vedere che si guce la ferita almeno lì Flanagan qualcosa di sensato lo fa ma ci sarebbe arrivato anche mia nipote Elisa c'ha sei anni sei anni c'ha sei anni lei probabilmente avrebbe scritto una sceneggiatura migliore quindi almeno su questo non cade Flanagan fa cura la ferita e lei però si mette in macchina e inizia a fare la Le Mans 99 corre in mezzo agli alberi in queste strade buie corre che cazzo corri non ti sta inseguendo nessuno vai piano porca di quella puttana vai piano tanto ti sei salvata non è che c'è un killer che ti sta seguendo anche se anche se seduta dietro di lei c'è non sferato ok seduta insieme di lei che poi vi spiegherò che è un buco di trama incredibile perché c'è non sferato dietro di lei in macchina e no vabbè non buco di trama capiremo che alcune cose se le immaginate e alcune cose invece se successe davvero e sbatte in faccia all'albero ma va ma va camminando a 150 all'ora senza dormire mangiare e bere per tre giorni in mezzo al bullo ai boschi sbatte in faccia all'albero ma va non ci sarei mai arrivato fortunatamente fortunatamente a nemmeno 15 metri dall'incidente che gran colpo di culo a 15 metri dall'incidente ci sono già persone con le torce pronte a salvarla e qui arriva poi the revelation del film revelation arriva la grande spiegazione noi abbiamo già capito tutto solo una cosa solo una cosa è che dovrebbe essere il colpo di scena alla Ham Night Shalamayan il colpo di scena alla Sesto Senso il colpo di scena alla The Village o alla The Visit sai tutti Ham Night Shalamayan è famoso per i suoi colpi di scena incredibili o Mulholland Drive cazzo scopri che Diane si è sognato tutto porca di quella puttana qui invece cosa scopriamo e su questo è stato stra criticato da tutti questo finale di merda anche a coloro a cui il film è piaciuto questo finale ha fatto schifo io non sono d'accordo perché ha fatto schifo tutto il film quindi non è che il finale lo rende meglio o peggio il film fa talmente schifo che la porcata del finale non è non è peggio non rende meglio o peggio il film cioè se io trovo un cesso pieno di merda e ci piscio dentro non è che poi danno la colpa a me perché ci ho pisciato dentro e beh era già sporco di merda cosa vuoi che sia una pisciata ecco credo di aver trovato proprio l'aneddoto giusto per spiegare il finale praticamente il finale il film era un cesso stracolbo di merda il finale sei te che ci vai anche a pisciare dentro finendolo di sporcare praticamente perché si scopre che il nostro Nosferatu era in realtà una persona reale era un killer ma qui ho iniziato a ridere ho iniziato a ridere perché di per sé la rivelazione è anche stimolante il problema è che sempre di bocciarti sti panacotta di bocciarti sti panacotta di bocciarti sti panacotta cioè praticamente Flanagan per paura che tu non capisca ti fa uno spiegone incredibile del perché Nosferatu era acconciato così allora mette in mezzo delle patologie per cui lui aveva il pigmento della pelle un po' così e quindi aveva una malformazione una malattia congenita che lo faceva troppo lungo e le braccia erano lunghissime arrivavano fino alle ginocchia come uno scimpanzì e le orbite degli occhi oh e sta qui quasi 20 minuti che ti fanno il referto medico solamente perché Flanagan vuole cercare di giustificare il perché Nosferatu sembrasse così brutto nelle scene di paura ed era così brutto perché ci arriva sta malattia e poi si inventano tutta sta stronzata di questo qua di questo malato malato che però è in grado di andare nelle tombe aprire i sarcofaghi tagliare i nasi ai cadaveri mangiarsi le orecchie cioè delle stronzate che non vi potete immaginare anzi se guardate il film capirete di cosa sto a parlare delle stronzate incredibili che nessuno farebbe ma nemmeno nemmeno un necromantico perderebbe tempo ad aprire una tomba a tagliare le orecchie perché poi questo 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 killer fa 500 cose in una non si capisce se li scopa se li magna poi gli piace gli piacciono i gioielli le manette e poi a quello si mangia la faccia a quell'altro invece c'è tutto c'è lei che c'è una pila di articoli di giornale dove c'è scritto dettaglio per dettaglio tutto quello che fa il nostro uno sferato assolutamente poco credibile nessuna persona si comporterebbe in questo modo facendola continuamente franco in un arco di tempo facendo la franca in un arco di tempo lunghissimo lei parla di sei mesi e questo già da prima faceva queste porcate quindi per anni questo è passato dalla Louisiana quindi a New Orleans fino a al Massachusetts dove non lo so dove è ambientato il film non lo voglio manco sapere quindi in mezza America a profanare le tombe e nessuno ha mai capito niente per fare cosa poi per mangiarsi un orecchio per tagliarsi la testa a quell'altro gli strappi genitali poi si magna poi arrivano a casa sua finalmente trovano la sorella e il fratello che lui chiamava mamma e papà quindi forse hanno avuto anche un rapporto incestuoso e hanno partorito lui copiata da True Detective anche questo oh gli ha mangiato la faccia e poi la cosa più bella la cosa più bella e lui però predilige solo la carne umana maschile oh 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 lì tutte le persone ad applaudire bravo bravo Flanagan bravo sei il nuovo sei il nuovo Polanski il nuovo il nuovo Orson Welles un killer coprofago pedofilo necromantico che però non tocca le donne e quindi la nostra cagna Carla Cugino ha potuto godersi il suo la sua vacanza legata ad un letto come l'esorcista per tre giorni senza che il nostro killer la toccasse perché il nostro killer era frocio e quindi scopava e se magnava solo la carne maschile che fortuna che ha avuto la nostra attrice che fortuna che fortuna incredibile facciamoci il segno della croce viva il Dio abbiamo trovato un killer l'unico killer della storia che se magna solo carne umana maschile ma ma strepitoso strepitoso e come se al peggio non ci fosse fine come se al peggio non ci fosse fine la scena finale in cui lei dice devo affrontare i mostri devo andare al processo e guardare in faccia non sferato e allora c'è sta scena di una stupidità che nemmeno ma porca puttana ma come cazzo si fa veramente lei calcoliamo che parliamo di un processo a forse uno dei killer visto che parlano di quasi 10-20 persone uno dei killer più efferati della storia americana e lei entra tranquillamente in questa aula di tribunale quando invece noi conosciamo dai tanti stupidi film americani che come minimo ci sono due tre quattro cordoni di polizia e di security che non ti farebbero mai entrare così dalla porta principale lei entra dalla porta principale non la perquisiscono non la fanno niente ehi e urla come manco stesse ordinando una granita al bar di zio peppe ehi 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 una granita al limone nosferato si gira e pronuncia la frase sei chiaro di luna ste stronzate quindi oh colpo di scena quindi lui non era immaginazione nosferato esisteva davvero oh e poi lei la nostra eroina perché un film quindi scritto nell'epoca me too quindi bisognava probabilmente far capire che le donne ce l'hanno più duro del protagonista che invece il cazzo ce l'aveva superfloscio e dice eh ti ricordavo molto più alto credo lo traduco sì insomma avrà detto ste stronzate qua poi si gira è bello perché perché lei quasi quasi lo toccava l'imputato senza che un poliziotto una guardia giurata sai in America tu basta che guardi storto a qualcuno subito arrivano mille poliziotti con il teaser con la corrente elettrica e ti stordiscono subito lei entra tranquilla senza perquisizioni parla con l'imputato fanno uno small talk dolcissimo poi spara la sua frase ad effetto che non fa ridere a nessuno non fa ridere a nessuno non fa paura non fa nulla e non è zero ed esce da questo tribunale tutta fiera tutta fiera e noi dovremmo sentirci fiera fieri come lei e il film finisce ed è stato il momento più bello canzone bruttissima manco la canzone dei titoli di coda sono riusciti a farla bene è veramente un film che cambia cambia le gerarchie perché Bob diventa un capolavoro rispetto a sto film e il cartaglio diventa diventa un 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 patrimonio dell'umanità che deve essere protetto dall'UNESCO qui siamo di fronte e io ho visto film come come Cloverfield Paradoxon come Autobahn come Jackie ma questo qui è veramente una porcata di dimensioni bibliche porcata dal primo dal primo all'ultimo minuto in cui è tutto sbagliato vi ripeto me ne faccio una ragione che ho trovato critiche positive 7 su 10 70 80% su metacritic su Rotten Tomatoes recensioni che 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 dicono che Carla Cugino è il ruolo di una vita ma noi dobbiamo riflettere con la nostra testa perché ormai la gente non per colpa del virus prima ancora del virus erano tutti coglioni e ripeto in un periodo in cui danno l'Oscar come miglior film a una robaccia coreana in cui lo snodo narrativo è uno che inciampa per le scale tra l'altro perché deve essere un segnale politico contro Trump non posso certo sorprendermi se poi leggo che il cazzo di Gerald come film è piaciuto quindi non ne parliamo è la nostra opinione che è probabilmente l'opinione giusta gli altri si tengano la loro opinione io però vi ho raccontato il film scena per scena quindi non è che mi sono inventato qualcosa o ho messo dentro cose che in realtà non ci sono quello è il film la mia interpretazione la nostra interpretazione è stata quella ed è negativo è tutto negativo in questo film non si può salvare niente e siccome mi hanno consigliato lo stesso rotto in culo che mi ha consigliato sta porcata mi aveva consigliato anche Crip incredibilmente Crip è meglio di questo è meglio di questo perché Crip era semplice era a modo quasi originale e soprattutto la maschera da lupo con lui c'è quella scena di Crip che si mette la maschera nel finale di notte e inizia a strusciare il culo vicino la porta mi piace troppo quella scena cioè lui con la maschera da lupo un lupo un demone non lo so e poi si struscia il culo sulla porta con questa maschera e il coglione l'altro coglione con la telecamera non è che gli sbatte la telecamera in faccia e scappa no lui continua a filmare sempre tutto a favore di telecamera poi quando il lupo diventa pericoloso credo gli sbatti la telecamera in faccia ecco non si capisce bene sono già ansioso di Crip 2 sono già ansioso di Crip 2 Crip addirittura c'è anche un bel finale con lui che sgattaiola dietro al fesso con la telecamera che sta seduto Fear sulla panchina a guardarsi il lago e non sente ovviamente al lupo dietro e si fa conficcare l'ascia in testa ma porca miseria bello però bella quella scena è veramente fatta bene incredibilmente Crip distrugge il cazzo di Gerald su tutto sugli attori sulle musiche sui momenti di suspense sulla trama e infatti ci sarà Crip 2 lo rivaluto lo rivaluto assolutamente da rivalutare Crip dopo aver guardato questa porcata in mane che avrà uno strascico incredibile per molte persone perché sarà lo spauracchio sarà il tormentone dell'anno perché un film così brutto peccato che è del 2007 quindi anche fuori concorso perché già gli avrei dato adesso con nove mesi di anticipo che avrei dato il premio come porcata dell'anno ma siccome è fuori concorso non possiamo però gli abbiamo dedicato un'ora di podcast questa verrà pubblicata ufficialmente su YouTube quindi tutti potranno ascoltarla non è giusto che questa recensione la ascoltino solamente pochi scelti questa deve essere messa pubblicamente ci metterò anche il titolo in cinese di questa merda di film perché tutti devono sapere quanto fa schifo sto film tutti devono saperlo detto questo vi saluto abbiamo finito fa caldo speriamo di risolvere i problemi che il mondo sta vivendo in questi giorni e ci vediamo alla prossima salve a tutti ciao ciao e viva il cinema quello bello